Tra le buvole e i sassi passano i sogni di tutti, passa il sole ogni giorno senza mai perdare. Dove sarò domani? Dove sarò? La perdonanza celestiniana in un tripudio di emozioni ieri all'Aquila per il concerto dei Negramaro. Domani risuona in città l'omaggio della band di San Giorgi che torna a cantare il brano simbolo del sisma ed emoziona con l'emaggio. Domani la canzone di Mauro Pagani trasformata all'indomani del terremoto del 2009 in un inno alla speranza. Le sue parole furono intonate da tanti artisti coinvolti nel progetto e 14 anni dopo San Giorgi ha cantato per il pubblico della perdonanza in una delle serate più attese della 729 eseme edizione. Tocchiamo la terra dell'Aquila, dice il cantautore, con il cuore tremante. Il pensiero va a quei giorni lì che non ricordiamo volentieri ma che dobbiamo tenere a mente nel cuore. Per noi è un'emozione essere qui e portare ancora una volta qualcosa di nostro ed è così che vogliamo sostenere questa città incredibile. Poi altri brani famosi al grande pubblico per il ventesimo anniversario del gruppo. Nel backstage il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha consegnato a San Giorgio e agli altri membri del gruppo il fiore della memoria. Proprio per la solidarietà manifestata con il brano domani. Ma domani, domani, domani lo so, lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. E di nuovo la vita sembra a San Giorgio e agli altri membri del gruppo.